Salve a tutti e benvenuti a questa lezione su Clifford Gears e l'antropologia interpretativa all'interno del nostro corso su quelli che sono stati i primi e più importanti antropologi della storia. Qui abbiamo visto Malinowski, Levi Strauss, abbiamo visto il neo-evoluzionismo e il materialismo culturale di Harris e oggi parliamo dell'impostazione interpretativa di Clifford Gears, che è stato il maggior rappresentante di questo corso in antropologia. Alla Gears scrisse un insieme di saggi, una raccolta appunto di saggi nel 73 del 1900, che è rimasto importante per l'antropologia appunto perché ha delineato una nuova linea o comunque una nuova visione o modello in ambito antropologico. Questo libro intanto si basa, anzi questa serie di saggi e di monografie, si basano su racconti etnografici delle società di Bali e Java e poi ecco Gears ne ha fatto una sistemazione teorica dal quale si evince il suo, si nota il suo modello, che segue appunto l'approccio interpretativo. Gears intanto chi era? Era un antropologo da campo e come abbiamo avuto modo di osservare anche e soprattutto quando abbiamo parlato di Malinowski, l'antropologo da campo è un antropologo, è un ricercatore che va direttamente a osservare in modo spesso partecipante, cioè mettendosi insieme e vivendo come le popolazioni oggetto di studio. Quindi Gears seguiva questo modello e quello che lui intendeva con etnografia era non solo usare una serie di tecniche, ecco una specifica tipologia di osservazione, se per esempio partecipante, cioè mettersi proprio in mezzo a vivere come le popolazioni che si studiano, o non partecipante, cioè nascondersi o mettersi ai margini della cultura che si studia e osservarla dall'esterno. E non solo queste tecniche o procedure, appunto l'osservazione del rituale, oppure anche scrivere un diario del lavoro quotidiano in cui si analizzano e si osservano i fenomeni e i rituali di questi popoli che i primi antropologi andavano a studiare. L'etnografia per Gears è qualcosa in più oltre questo. L'etnografia è anche lo sforzo di interpretare ciò che viene osservato. Abbiamo quindi un punto nuovo, nel senso interpretare fa parte della tecnica etnografica, fa parte dell'etnografia anzi in generale, non è nemmeno una tecnica, è un qualcosa in più. Perché Gears reputa e trova l'interpretazione fondamentale? Perché dice appunto che dà una descrizione densa. Cioè cosa intende lui con descrizione densa? Cioè avere quella consapevolezza del fatto che i dati che sono stati raccolti attraverso interviste, oppure attraverso osservazioni di rituali, oppure attraverso ecco video fatti in alcune scene quotidiane di questi popoli cosiddetti primitivi, permettono di avere questa descrizione densa. Perché? Si basa sulla interpretazione che le persone fanno rispetto agli eventi della propria vita. Nel senso che quel rituale, quella scena, quella cultura in generale osservata in questi popoli è un'interpretazione che viene fatta perché per esempio magari questo rituale ha tradizioni molto antiche e quindi di volta in volta viene rivissuto e reinterpretato dalle popolazioni oggetto di studio. Quindi queste interpretazioni poi che cosa fanno? Vengono elaborate a sua volta dall'antropologo, a partire dal proprio punto di vista. Quindi come dire, quella popolazione, facciamo l'esempio del rituale, quella popolazione recita, mette in scena, mette in atto un rituale attraverso anche una propria interpretazione di quei gesti e di quei riti. L'antropologo che osserva elabora il senso di quel rituale che ha già un'interpretazione del popolo che si sta studiando, ma l'antropologo facendo questo lavoro di osservazione, ecco, pone anche il suo punto di vista, quindi anche la sua interpretazione. In poche parole quindi il concetto dell'antropologia interpretativa e gli studi di Geertz sono sintetizzabili così, cioè che il lavoro dell'antropologo non è né null'altro che una interpretazione delle interpretazioni, quindi l'antropologo interpreta quel rituale che già è una interpretazione del popolo oggetto di studio. Quindi il fatto che l'etnografia però considera un'interpretazione non è però un limite per Geertz, perché si potrebbe dire allora è tutto vago, perché è tutta un'interpretazione di un dato. No, per Geertz questo addirittura è un punto di forza, perché è una ricchezza, ecco dice lui, nel senso che la complessità e la varietà del mondo la si può comprendere meglio attraverso questa analisi delle continue interpretazioni fatte da chiunque osserva in un certo modo. Quindi apre un po' scenario più filosofico, se vogliamo, o in parte anche sociologico, ma assolutamente antropologico, in cui non si può analizzare una cultura senza rendersi conto delle interpretazioni varie che nel descrivere tale cultura vengono messe in atto. Quindi, diceva lui, non è possibile fondamentalmente arrivare a una presunta verità dei fatti, perché la verità dei fatti quindi o non esiste o qualcosa che è sommerso, che è superato, dalle continue interpretazioni che vengono date di quei fatti stessi. Per Geertz, inoltre, la forza dell'etnografia è questo carattere di narrazione scritta. Allora, l'etnografia, narrazione scritta, vuol dire che l'antropologo da campo, in questo caso, Geertz è un una cultura molto diversa dalla propria e che vivono in un posto molto lontano, facciamo ad esempio, che cosa fa l'antropologo? Quindi osserva questi popoli con i loro riti e con la loro cultura, ne trascrive alcuni elementi principali di questi riti e di questo modo di vivere, e quindi questo è già una forza che ha l'etnografia, che è al punto il fatto di avere, salvare, diciamo così, una serie di ritualità, di azioni, di modi di vivere, quindi di culture, che altrimenti andrebbero perse, perché molti di questi popoli, come abbiamo visto in precedenza, erano congiati da taylor, tra virgolette, primitive, cioè intese come popolazioni che non scrivevano nulla delle loro tradizioni. Ma si tramandavano tali tradizioni in modo orale. Quindi l'etnografia ha questa forza di salvare, di, come dire, mettere da parte, anche per il futuro, e ricordare tutta una serie di ritualità e di modi di vivere di alcuni popoli, di azioni anche sociali, che altrimenti andrebbero perse. Quindi Geertz dice, l'antropologo che interpreta tutto quello che succede e lo trascrive anche mettendo se stesso nel lavoro, è anche un conservatore di significati, perché comunque, anche se c'è una sua interpretazione, egli ha, come dire, dato vita eterna, in un certo senso, a uno stile, a una cultura umana che altrimenti sarebbe andata persa. Quindi un conservatore di significati, laddove interpreta il significato di un rituale, per esempio. Per Geertz, quindi, non esistono degli elementi culturali universali. Cioè, ogni cultura realizza un significato differente, chiaramente muovendosi all'interno dell'idea dell'antropologia interpretativa, è normale che ogni cultura è a sé stante in questo senso, perché ogni cultura ha la capacità di elaborare un significato differente ad ogni aspetto della vita, che sia a sé aspetto biologico, naturalistico, relazionale, ogni cultura elabora e interpreta tali azioni sociali o tali realtà sociali a modo proprio.